C'è la zia V, criptomagnetica V, sopra i suoi trampoli modello Marlen, gli occhiali Vintage e uno strano tagliere. E la zia V, fantasmagorica e top, basta uno sguardo e un uccellino facciccio. Vende la gente invitando Mosè, le paledeci come in campo sui link. A volte indossa dei fantastici jeans, è molto bella come quelle dei films. E' il Buonavig, più allucinante di un trick, e se c'ha voglia lei ti scioglie con un click. Con quel suo pare fisico, quel portamento ipnotico, un punto schiena cospico, tentazione fra amiglie e bebe. Ti spegne ogni bribito, ti accende in un attimo, un paradiso mistico, un imparto ti garantirà il beat. Io la descrivo così, vive la vita fra burago e caffè, amarenato come fosse di Andrè. Si appare il beat, è legattissima in chic, un fotogramma che fa esplodere la zip. Si! Combinazione angelica, a volte un po' esoterica, ma certamente è mitica. Un incrocio di divinità, si infila dentro l'anima, si mette solo un attimo, lo so che è napilattico, non c'è cura che ti può salvare. B, filosofia edica rock, più dissentante di un green, più travolgente di un film, in due parole ziavit. Bambina a me, innamorata di chi? Un ologramma che compare in HD. Un ologramma che compare in HD. Un ologramma che poi chiamano bari. Un ologramma che poi c'è un po' esoterica, non c'è un po' esoterica, non c'è un po' esoterica, non c'è un po' esoterica.